la cantante salentina che ha guadagnato il disco di platino per il brano fino a qui torna sui social con una vistosa novità ecco di cosa si tratta alessandra amoroso è stata ospite di gianluca gazzoli negli studi di radio dj presso l'acqua fan di riccione dove ha raccontato vari aspetti della sua carriera e delle sue esperienze recenti durante l'intervista alessandra ha descritto la sua partecipazione al festival di sanremo 2024 come un'esperienza molto importante e positiva sentendosi consapevole e concentrata su ciò che voleva trasmettere alessandra amoroso sembra essere entro dell'attenzione l'artista salentina vincitrice di amici il talent di maria de filippi ha guadagnato il disco di platino per il brano fino a qui presentato all'ultimo festival di sanremo alessandra durante l'intervista ha anche parlato del processo creativo dietro le sue collaborazioni spiegando come nascano da un profondo sentimento di empatia e chimica in particolare ha menzionato il rapporto speciale con vid mama con cui ha recentemente collaborato il gossip sospetto sarà vero secondo diversi utenti la cantante da poco 38 n avrebbe scelto di rifarsi il seno ad alimentare questa ipotesi uno scatto social pubblicato dalla stessa ma sarà vero quel che è certo è che al momento non ci sono informazioni ufficiali